Ciao, ciao a tutti, buongiorno, bentornati e bentrovati. Allora, io sono tornata dalla mia vacanza lavoro e ho pensato oggi di fare un video che unisce l'utile al dilettevole. L'utile perché il giorno prima di partire mi è arrivato il pacco in collaborazione con Stylevana e ho approfittato della mia vacanza per provare questi prodotti e per fortuna che mi sono arrivati questi prodotti, altrimenti non sarei riuscita a fare skin care. Allora, vacanza, vabbè, non vacanza, diciamocelo chiaramente, lavoro molto faticoso ma un'esperienza davvero indimenticabile, molto ricca, ricca di relazioni, ricca di divertimento, ricca di fatica, ma penso di aver ricevuto molto di più di quello che io sono riuscita a dare. Io e tutto il team cucina perché eravamo in quattro e tutti e quattro abbiamo veramente lavorato tanto, lavorato bene insieme, ci siamo trovati benissimo, ci siamo divertiti tantissimo. Era tanto che non ridevo così di gusto, che non mi divertivo così e il fatto di poter mettere in condivisione quello che so fare, cioè il fatto di poter cucinare è stata davvero un'esperienza bellissima. Questi ragazzi sono stupendi, eravamo un gruppo di 53 persone, 47 ragazzi e a volte 8, a volte 6 adulti, dipende da chi si fermava, da chi scendeva. 47 ragazzi adolescenti dai 16 ai 18 anni, quindi un gruppo bello tosto, molto ricco, molto diverso, molto variegato, ma dove ho respirato un'atmosfera di bellezza, di condivisione, di amicizia e anche di fatiche perché non è facile, non è facile per noi adulti andare d'accordo, non è facile per loro andare d'accordo con tutti, ognuno ha le sue simpatie e nulla, quindi sicuramente è un'esperienza che mi piacerebbe rifare se ne ho la possibilità ed è un'esperienza che vi consiglio se potete farla all'interno della parrocchia come l'ho fatta io all'interno di un gruppo sportivo, all'interno di gruppi di animazione che magari riescono a trovare il momento per andare insieme, insomma non c'entra con quale organizzazione o con quale gruppo voi andiate, ma proprio il fatto di mettersi, di essere dono per qualcun altro mettendo a disposizione le proprie capacità anche se piccole, come quella della cucina insomma è un'esperienza che mi ha veramente cambiato, posso dire che è un'esperienza che mi ha veramente cambiato e che sono contenta di aver vissuto ma vediamo al tema del nostro video allora come vi dicevo il giorno prima di partire ho ricevuto il pacchetto di Stilevana con dei prodotti favolosi, veramente favolosi alcuni li avevo già provati, li avevo già acquistati io, in particolare uno e di un altro avevo provato una mini taglia e mi erano piaciuti tantissimo perché vi dico per fortuna che sono arrivati? Perché io ero partita ingenuamente pensando di avere del tempo per me stessa ma stupidamente perché cucinare per 53 persone non è un gioco soprattutto sui tempi, perché un conto se fai la pasta per 5 persone un conto se la fai per 50 e soprattutto se sei a una certa altezza, 1300 metri quindi comunque l'acqua bolliva molto più lentamente e ovviamente le quantità essendo tante comunque richiedevano molto molto più tempo nella preparazione e nella cottura quindi di tempo libero non ne abbiamo assolutamente avuto ma proprio mai non siamo praticamente mai usciti dalla cucina se non per fumarci una sigaretta ogni tanto io e l'altra amica che eravamo in cucina e non abbiamo visto neanche il paese di Entrèvre e neanche Courmayeur uscivamo guardavamo le montagne del Monte Bianco lì così imponenti, così frastagliate e stupende dove non c'era più neanche il ghiacciaio nel ghiacciaio praticamente si è sciolto tutto e quindi nulla c'è, tempo per me e tempo per noi non ne avevamo entravamo in cucina alle 6 e mezza della mattina per iniziare a preparare la colazione per fare colazione noi un po' con calma ed uscivamo alle 10 e mezza, 11 di sera quindi capite voi che dopo una giornata intensa fare skin care è non dico impossibile ma quasi ma mi sono venuti in aiuto questi prodotti che adesso vi mostrerò e di cui vi dico il mio semplicissimo parere allora io mi sono portata questo piccolo beauty case dove ho messo questi prodotti poi avevo un'altra bustina dove avevo magari la crema corpo che non ho usato la crema per le gambe che non ho usato e una crema abbronzante perché pensavo di abbronzarmi ma che ovviamente non ho usato ho usato esclusivamente questi che sono i prodotti che mi sono arrivati da testare cominciamo con il primo prodotto salva skin care io li potrei chiamare così mi scuso per come sono ma a parte il caldo sono veramente molto stanca ho delle occhiaie abbastanza profonde della prima volta perché si dormiva poco si dormiva male qui ci sono le finestre che si aprono e si chiudono quindi mi vedrete illuminata come la madonna del carmine poi sicuramente diventerò buia però va bene così e vi stavo dicendo quindi ho portato un'altra borsa dove avevo altri prodotti ma che non ho utilizzato se non il burro cacao che ogni tanto mi spalmavo sulle labbra questo è stato è stata la mia la mia skin care allora il primo prodotto che vi voglio far vedere innanzitutto vi ricordo che abbiamo sempre il codice sconto che è stato offerto al canale e che è inf10eli con la y finale ma poi vi metto tutte le informazioni sotto nell'info box vi ricordo che stilevana è un e-commerce coreano che vende prodotti di skin care coreana e non solo e abbiamo lo sconto del 10% per ordini aspettate che vado a riguardarmeli allora su un ordine di qualsiasi importo se l'importo supera i 48 euro abbiamo il 15% di sconto e la spedizione è gratuita per tutti gli ordini superiori ai 53 euro se invece fate un ordine che è inferiore ai 53 euro le spese di spedizione sono 5,99 euro e non sono neanche tantissime vi ricordo anche che essendo prodotti che arrivano direttamente dalla Corea hanno un tempo di spedizione dai 7 ai 10 giorni lavorativi io generalmente tutti i pacchi che ho ricevuto sia degli ordini che ho fatto io personalmente sia dei pacchi che mi sono stati inviati li ho ricevuti in un tempo massimo di 15 giorni al massimo 17 però vabbè è una cosa che si sa arrivando appunto dalla Corea si aspetta tranquillamente poi i pacchi sono tracciati quindi riuscite benissimo a vedere quando partono, quando sono in viaggio quando arrivano generalmente in Europa nel giro di due giorni vi vengono consegnati quindi è tutto tracciabilissimo sono pacchettati in maniera perfetta e quindi direi che è un ottimo sito io ho comprato anche personalmente e continuo a comprare anche personalmente e mi sto trovando veramente benissimo anche perché i prezzi sono davvero molto molto convenienti io ho trovato la differenza come vi ho detto nell'altro video di presentazione su alcuni prodotti che vendono altri siti di addirittura 10 euro di differenza quindi penso che sia un ottimo e-commerce e ci sono sempre tantissime offerte ho visto anche adesso oggi sul sito ci sono degli sconti ottimi ci sono anche dei prodotti scontati al 60 e al 70% quindi se vi va di fare un giro se non per prendere questi prodotti o altri prodotti magari se vi interessano io un'opportunità gliela darei ma partiamo con il primo prodotto il primo prodotto che io ho utilizzato è stata questa mist probabilmente la ragazza che segue sa che io adoro adoro perché sono uno dei miei prodotti preferiti le mist, le essence e le maschere e questo ho ricevuto senza assolutamente chiedere nulla l'unico prodotto che mi hanno cambiato mi dovevano mandare una crema viso che mi sembrava un po' troppo pesante perché era stata progettata per una pelle molto secca io avendo una pelle mista grassa ho chiesto se mi potevano mandare comunque un altro tipo di prodotto vedete Codi ogni tanto che sballonzola qua dietro sta soffrendo il caldo anche lui come tutti noi e quindi nulla io mi sono portata questa mist ed è stata un po' la mia salvezza perché non ho portato nessun tonico mi sono portata il detergente che vi ho presentato l'altra volta per lavarmi la faccia sia alla mattina che alla sera la mia skin care era praticamente uguale la facevo nello stesso modo con gli stessi step e con gli stessi prodotti sia alla mattina che alla sera l'unica cosa che cambiavo era la crema alla mattina mettevo una crema solare e alla sera mettevo una crema idratante che mi sono state inviate allora questa è una mista un pool con il collagene con il collagene collagene oddio adesso ricomincio ragazzi vi eravate abituati a quelle super ma io parlo così cosa vi devo dire allora con il collagene collagene era scritto in inglese con il collagene della marca Kaki penso si dica così e ha all'interno tre tipi di salmon complex che protegge la barriera cutanea il collagene collagene madonna Elena collagene collagene di salmone che nutre la pelle e la rende elastica io la sentivo molto molto idratata ne spruzzava una quantità veramente molto abbondante ha un'erogazione fantastica adesso io ve la faccio vedere sulla faccia che tanto con questo caldo cioè impalpabile ha un profumo delicatissimo di fiori non bagna in nessun modo nel senso che penetra molto velocemente si asciuga molto velocemente soprattutto se avete la pelle accaldata e mantiene l'umidità della pelle io la usavo sia come me cioè la usavo al posto del tonico e quindi facevo tonico e mista in questo unico prodotto mi sono trovata benissimo e questa me la spruzzavo anche magari non so andavo un attimo a rinfrescarmi nel pomeriggio o a riposare e quel dieci minuti quarto d'ora entravo in bagno me la spruzzavo ed era proprio una ventata di aria fresca cioè proprio una sensazione di freschezza di leggerezza ma comunque anche di compattezza sul viso insomma la pelle rimane veramente molto idratata e molto molto elastica è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e come vi dicevo ha salvato un po' la mia skin care perché non essendomi portata il tonico ho utilizzato questo sia come tonico come mist e come essence cioè 3 in 1 lo promuovo perché è veramente un prodotto veramente ottimo non è vegano ovviamente perché contiene il collagene di salmone quindi mi sembra giusto e doveroso avvisarvi perché magari c'è qualcuno che ci tiene a queste cose ed è giusto che lo sappia questo non è vegano vi faccio vedere anche il pack esterno perché io ovviamente per portarmi scusate mi si è ribaltato tutto i pack esterni sono di cartone fatto così e sono stupendi mi spiace quasi buttarli via ma veramente non ho più posto per tutte queste magnifiche confezioni e me ne separerò fa niente altrimenti esco io da questa casa e rimangono i prodotti al posto mio questo è il pack esterno questo è il packaging invece del prodotto plastica molto carino molto elegante rosa il profumo è un profumo molto delicato fiorito come vedete cioè non si vede e poi molto molto delicato ed è stupendo secondo prodotto che poi io andavo ad utilizzare è questo siero spray al tartufo d'alba quando ho letto tartufo d'alba mi è venuto uno sciopone perché l'unica cosa in cucina presumo l'unica cosa in cucina che non mi piaccia è proprio il tartufo il suo profumo così forte così insistente e avevo paura che profumasse di tartufo italiano e invece assolutamente no l'avevo anche visto se non ricordo male pubblicizzato da Elisabetta R che l'aveva già provato un po' di mese fa e anche lei diceva che aveva paura di questa cosa invece ha un profumo molto molto delicato è un siero bifasico spray come vedete prima c'è ci sono sopra tutti gli oglietti e questo si chiama ad alba white truff truffle first spray serum c'è uno spray bifasico dove sopra ovviamente ci sono gli oli e sotto c'è invece il ci sono invece gli altri ingredienti se voi lo sbattete per bene ovviamente si miscela e anche questo è meraviglioso ve lo spruzzate sul viso io rifaccio skin care con voi in questo momento e avete una sensazione proprio di freschezza e anche qui non unto assolutamente non unto si assorbe subitissimo e mi ha regalato una luminosità e un'idratazione molto molto intensa che mi durava per tutta la giornata cioè io arrivavo a sera e nonostante fossi stata in cucina dove chiaramente le temperature erano molto più alte anche se eravamo a Courmayeur comunque la cucina era calda le temperature erano calde sulla dicevano che appunto non ci sono mai state temperature di come in questo periodo come quest'anno e devo dire che la mia pelle non ne ha assolutamente risentito se non per la stanchezza fisica un prodotto per me assolutamente indovinato essendo spray essendo un prodotto molto versatile cioè lo si può utilizzare alla mattina lo si può utilizzare alla sera non è assolutamente pesante agisce in profondità e regala proprio una pelle luminosa ed elastica per tutto il giorno io questo l'ho potuto assolutamente sperimentare all'interno abbiamo gli estratti di semi di chia per lenire e calmare le imperfezioni e l'olio di avocado per idratare in profondità e proteggere la barriera cutanea è uno spray che agisce per la cura della pelle tutto in uno come se fosse anche qui una specie di tonico spray e direttamente siero e al suo interno ci sono tutti prodotti vegetali e ingredienti naturali quindi lo potete tranquillamente utilizzare la sua confezione è questa sempre molto carina e molto elegante in cartone e questo è il suo packaging anche questo molto elegante con la scritta in oro sempre in plastica questo prodotto è privo di parabeni solfati coloranti prodotti animali siliconi e oli minerali è vegano ed è cruently free mi sono trovata veramente veramente benissimo questi due prodotti devo dire che mi hanno salvato mi hanno salvato la pelle in tutti i sensi in quei giorni in cui non potevo assolutamente fare di più il terzo prodotto che io conoscevo già perché li avevo già comprati in precedenza e ho già utilizzato alcuni prodotti di questa linea che trovo per la mia pelle assolutamente indovinata la marca è frudia o frudia non so come si dica presumo frudia perché non c'è nessun accento e questa linea che è la linea verde è specifica per le pelli impure pelli miste che hanno magari i poli dilatati che hanno qualche punto nero io di punti neri non ne ho ma di queste maschere ne ho già fatte quattro perché le avevo anche comprate personalmente è una maschera favolosa una maschera per il viso favolosa che rende la pelle molto pulita cioè il siero che c'è all'interno la rende veramente molto pulita ma molto compatta è come se voi una volta che toglieste la maschera come se ci fossero dei siliconi che non ci sono all'interno ovviamente di questa maschera che vi tirano la pelle io me la sentivo proprio molto molto polposa molto tirata molto compatta più uniforme e vi fa durare io questa l'avevo utilizzata anche prima di partire perché è molto molto fresca e vi regala quasi una mattificazione al di sotto del trucco cioè la pelle durante la giornata non ha quella lucidità che ha di solito o almeno la mia pelle che è mista grassa soprattutto con questo caldo cioè suda tantissimo oltre per tutti i problemi legati ovviamente alla menopausa la cosa carina è che il foglio della maschera che è intriso al 60% di succo di uva verde e il profumo è spettacolare veramente meraviglioso assomiglia molto ai prodotti italiani che conosciamo che utilizzano il succo d'uva e purifica i pori e lascia la pelle veramente molto rinfrescata molto idratante e molto asciutta non secca è però davvero molto molto asciutta molto compatta il foglio di maschera che c'è all'interno non è il solito foglio di maschera che troviamo nelle maschere normalmente o almeno per me la prima volta che lo trovo è realizzato senza materiali fluorescenti e sbiancanti e infatti ha un colore un color nocciola un color naturale che quando poi lo mettete sulla faccia praticamente non vi accorgete neanche che avete che avete la maschera sapete che quando poi si mettono le maschere sembra sempre di essere Hannibal Lefter si chiamava il protagonista del silenzio degli innocenti ecco generalmente io assomiglio a quel personaggio lì quando ho la maschera e in questo caso invece si confonde molto bene con il colore della pelle e soprattutto è appunto naturale non ci sono sbiancanti e non ci sono materiali che possono irritare la pelle che già di per sé è la pelle mista è soggetta irritazioni e arrossamenti ecco questa maschera lenisce benissimo tutti gli arrossamenti soprattutto con questo caldo di questi ultimi giorni io ve la consiglio se poi la mettete in frigorifero è davvero un toccasana meraviglioso questa mi è stata appunto mandata in questa confezione speciale con dieci maschere di cui quattro io ne ho già utilizzate due ne ho regalate alla Lucia e ripeto per me questa questa linea di frudia verde è spettacolare per chi ha la pelle grassa e mista come la mia io mi sono trovata benissimo sia con il siero sia con una cremina che avevo comprato un campioncino piccolino che avevo voluto provare e quando finirò tutte le altre creme probabilmente mai perché ne ho aperte tantissime la voglio sicuramente ricomprare perché aveva proprio un effetto sebole equilibrante sotto il trucco per me era perfetta come crema base sotto il trucco altro prodotto che io utilizzavo alla mattina e che è stato ottimo è stata questa crema SPF io ovviamente sapete che tutto l'anno metto l'SPF anche se non prendo il sole e lì non l'ho preso nel senso che stavo fuori 5 minuti appoggiata fumavo la sigaretta e poi ritornavo all'interno della cucina è stata questa crema SPF adesso vi dico è della marca Make PRM e no ho sbagliato aspettate vediamo ecco questa era quella che mettevo alla macchina ed era l'altro prodotto ok questa che è della marca Skin 1004 di cui ho provato la volta scorsa il tonico e mi sto trovando benissimo Madagascar Centella Yaluronic Chica Water Fit Sun Serum SPF 50 allora è un siero solare molto molto leggero molto molto idratante quindi io questa la utilizzavo anche come crema viso cioè due in uno ho cercato di raggruppare più prodotti per cercare comunque di avere una skin care completa ma per non portarmi tantissime cose che poi non avrei avuto il tempo di mettermi è una crema come vedete molto molto leggera si assorbe subitissimo ma dà quella sensazione proprio di effetto idratante che rimane per tutta la giornata non è unta non la sentite come i soliti SPF che siamo abituati a mettere sulla faccia o sul corpo quando andiamo al mare e vi dirò la verità io la mettevo anche sulle braccia un po' di colore le braccia l'hanno preso e me la mettevo anche su di queste come vedete sono un po' bronzatina per i miei 5 minuti da fumatina di sigaretta un prodotto che come sappiamo gli SPF coreani sono sempre ottimi formulati con ingredienti naturali e Skin 1400 come vi avevo già detto forse anche l'altra volta esclude dalla formulazione dei prodotti tutti gli ingredienti nocivi che possano danneggiare la barriera corallina quindi è molto attenta anche agli ingredienti che utilizza e che possono essere dannosi al nostro ecosistema io guardate cioè è completamente assorbita ma vi lascia la pelle morbidissima non ha assolutamente profumo è un prodotto indicato per pelli sensibili e per pelli che hanno bisogno di idratazione qui l'idratazione è notevole cioè voi la sentite sentite la pelle morbida idratata non lucida non unta come vi dico sempre ma capite che c'è un'ottima idratazione quando mettete questa crema e per me è veramente ottima come tutti gli altri SPF la scatola il pack esterno è questo ed è stupendo bellissimo richiama proprio il mare la freschezza l'idratazione l'acqua la leggerezza e questa crema è leggera idratante fresca davvero un portinto ultimo no non ultimo penultimo prodotto che ho utilizzato ma questa l'ho utilizzata alla sera ed è la crema che vi dicevo che ho chiesto di poter sostituire perché me ne avrebbero mandata un'altra ma secondo me per me era proprio too much non sarebbe andata bene aveva anche una palettina che io ho perso in campeggio impazienza ma si riesce tranquillamente a mettere anche senza palettina allora questa è la marca è make prem safe me relief water cream watery cream è una crema a base per il 74% di opuntia ficus l'estratto di fico di india che viene prodotto in questo caso in Corea e è molto 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 idratante se ne avessi avuto la possibilità sulla l'avrei messa in frigorifero ma siccome la mia camera era in una scala di sopra alla sera non avevo certo voglia di scendere prendermi la crema ritornare su rimetterla giù questa crema secondo me si è messa in frigor al fresco alla sera dopo una giornata anche al sole o comunque in un posto caldo come una cucina dove si cucina tutto il giorno sui fuochi dove l'umidità è alta dove la pelle è esposta ad uno stress termico notevole è una manna è una crema in gel leggerissima si riesce anche a prendere è una crema in gel come vedete scivola addirittura poi con questo caldo si scioglie si assorbe subitissimo e voi avete un'onda di acqua fresca sulla faccia è meravigliosa meravigliosa non ha anche questa profumo contiene pantenolo e dice anche che può essere indicata siccome è indicata per le pelli molto sensibili arrossate e delicate la consigliano anche per il sedere dei bambini per il cambio del pannolino perché è davvero molto delicata ma crea questa barriera che mantiene l'idratazione per tutta la giornata e evita gli arrossamenti le screpolature e nel frattempo nutre e idrata la nostra pelle è veramente meravigliosa a me è piaciuta tantissimo e questa è stato il mio toccasana delle mie serate dopo che avevo finito in cucina veramente stupenda veramente veramente stupenda il 74% di appunto estratto di fico d'india contiene acido ialuronico e pantenolo che idrata la pelle e si prende cura della barriera appunto idratante un prodotto che mi è piaciuto davvero tantissimo ideale per le scottature da sole e dice anche perfetto per la cura dei capelli se uno se lo vuole fare come maschera poiché è idratante e levigante quindi direi che è un prodotto multishizing si dice così potrebbe essere perché ha tantissime funzioni sia per la pelle del viso sia per la pelle del corpo sia per i capelli sia per i culetti dei bambini io questa crema l'ho trovata quasi miracolosa vi dirò di più quando ho letto che era ideale per le scottature un giorno mentre ero in cucina mi sono scottata vi faccio vedere la scottatura praticamente non si vede neanche più ma io avevo una parte mi sono scottata con il vapore di una pentola mentre stavo cucinando la pasta e nei minuti successivi non riuscivo proprio a neanche avvicinarmi alla pentola perché mi faceva malissimo infatti ho detto qua mi escono tutte le bolle adesso che cavolo faccio come una scema non mi ero portata nessuna crema contro le scottature sono salita in camera perché appunto i miei colleghi cuochi mi hanno detto senti vai su un attimo cerca qualsiasi crema che hai mettitele poi benda il braccio in modo che non ti dia fastidio poi per cucinare insomma io presa dalla disperazione perché mi faceva veramente tanto male sono salita ho preso questa crema me la sono spalmata fino a metà braccio io ero praticamente viola da qui a qui me la sono spalmata sul braccio ho messo la benda e io è come se avessi messo un balsamo lunitivo non sentivo assolutamente più il dolore non mi si sono formate le vesciche non mi si è formato praticamente niente c'è un po' di pelle abbrustolita ma mi ha calmato tutto l'ho messa per 2-3 giorni ed è stato veramente un balsamo un portento questa per me è stata la scoperta di tutto questo pacco meraviglioso stupendo non saprei scegliere un podio perché sono tutti prodotti meravigliosi li metterei tutti al primo posto ma questa mi ha anche aiutato in un momento di difficoltà in cui non avevo nessuna crema per le scottature quindi perfetta perfetta veramente ultimo prodotto che non ho aperto e non vi aprirò perché ho già un balsamo struccante struccante aperto e siccome in questo momento non mi sto truccando non lo sto utilizzando ho paura che poi vada a male ma io questo l'ho già l'ho già provato in un barattolino piccolino quando ero alla ricerca dei balsami struccanti e questo è il famosissimo ma famosissimo Clean Heat Zero Cleansing Balm di Banila Co e questo è il prodotto cioè diciamo è il prodotto di punta quello originale quello più venduto poi c'è anche in altre tre declinazioni chiamiamole così quello purificante quello rivitalizzante e quello nutriente io gli altri non li ho mai provati questo che era quello che avevo provato è un balsamo struccante che strucca tutto strucca anche il trucco waterproof per quelle poche volte che io l'ho provato è favoloso rimuove il trucco deterge la pelle idrata rende luminosa la pelle è spettacolare non l'ho aperto come vi dicevo perché non voglio che si inizi il PAO e poi lo debba lo debba buttare ma su questo cioè vi do la mia la mia certezza che è veramente veramente ottimo ma ne avrete sentito parlare in tantissimi altri video e avrete visto delle recensioni in cui ne parlano benissimo questo a detta di tante persone è il migliore in confronto alle altre tre varianti diciamo così ebbene io vi ho presentato i prodotti che erano all'interno del mio beauty case per la montagna ringrazio Stilevana per la fiducia che ha avuto nei miei confronti per avermi dato ancora l'opportunità di partecipare a questa collaborazione per me è inaspettata un regalo davvero unico sono contenta di averli ricevuti il giorno prima perché ho avuto la possibilità appunto di portarmeli nella mia beauty case e di aver provato e testato ancora una volta che i prodotti coreani sono comunque il top io al momento non ho ancora trovato nessun prodotto che non mi piaccia e soprattutto sono contenta che nonostante abbia avuto pochissimo tempo e me lo sia proprio risicato alle 6 della mattina e alle 11 di sera dopo una giornata faticosa passata in cucina sono comunque riuscito a fare tutti i miei step con questi prodotti che sono favolosi e devo dire che la scoperta appunto di questa mist che mi ha fatto da tonico che mi ha fatto anche da essence e del del siero spray sono stata tanta roba veramente se potessi metterli sul podio ma proprio vabbè così dai mettiamoli sul podio io metterei al primo posto sicuramente questa perché è stata una scoperta perché ha davvero moltissime funzioni e io ho potuto testare soprattutto che è ottima contro le scottature non da sole ovviamente ma da vapore da cucina quindi questa è perfetta e molto idratante molto lenitiva e questi due prodotti che sono spaziali perché sono dei tre in uno due in uno insomma hanno molte funzioni e riescono a così a completare quella che può essere una skin care molto basica se uno non ha voglia di mettersi uno due tre quattro sieri tenete conto che comunque io alla mattina generalmente ne metto due la sera ne metto tre perché mi piace comunque così provare più sieri di avere la possibilità di stratificarli e devo dire che comunque nonostante abbia avuto una skin care molto così molto basica molto easy la mia pelle non ne ha non ne ha risentito ne hanno risentito le occhiaie ma non mi ero portata il contorno occhi non fa niente e mi sono spalmata la mia fantastica crema bene spero di nella mia confusione nella mia semplicità di avervi dato così un'idea di questi favolosi prodotti se li volete provare vi ricordo appunto che abbiamo sempre lo sconto valido che è inf10 eli vi metterò nell'info box tutte le informazioni e i link diretti ai prodotti che altro dirvi ricomincia oramai una settimana l'ultima settimana di lavoro io sono ritornata il giovedì sera il venerdì comunque sono dovuta rientrare in ufficio perché dovevo fatturare e fare tutte le mie chiusure amministrative prima delle ferie adesso lavoreremo fino a venerdì però sicuramente fino al 13 rimarremo a casa andremo via poi una settimana ah non vi ho detto che io vado a Rodingo un paesino che è sopra Bressanone e ho scoperto che a Bressanone c'è il DM ragazze vi aspetta sicuramente un'altra mega visita al DM dove questa volta ci sarà anche Lucia che dovrà prendere delle cose che l'altra volta non le ho comprato e quindi non è colpa mia se ogni volta che vado in vacanza trovo un DM a disposizione quindi va bene e nulla spero di riuscire a fare qualche altro video non spero sicuramente sì perché adesso ho sicuramente un po' più di tempo quindi ho 4-5 video da regalarvi se volete con questo regalo vi ringrazio per essere arrivati fino a qui se volete iscrivervi al canale se vi è piaciuto se volete sostenermi a me fa davvero molto piacere se vi è piaciuto il video un pollice in su se non vi è piaciuto non sarete arrivati fino a qua o almeno lo spero e vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete mandato io su non sono riuscito a guardare nessun video a parte il tempo ma non avevo neanche la connessione internet quindi non riuscivo a collegarmi e alcune volte non riuscivamo neanche a chiamare quindi a parte il tempo che ovviamente non c'era per poter vedere i video ma neanche per poter fare i commenti non c'era neanche la connessione e forse è stato anche un bene perché ci siamo proprio staccati completamente da quello che era il mondo di tutti i giorni la vita di tutti i giorni che può essere piacevole bella ma a volte magari ci fossilizza un po' troppo su questi social ed è stata anche appunto una settimana di stacco mentale anche da tutto quello che era la tecnologia abbiamo così coltivato i rapporti umani veri vicini abbiamo creato delle amicizie nuove ho potuto conoscere ragazzi stupendi ce n'erano alcuni che mamma mia se tornassi giovani ma quanto sono belli ma quanto sono ricchi ma che stupidità bella che ingenuità sono sono davvero favolosi io io ho ricevuto un dono un dono grandissimo da questi ragazzi veramente è stata un'esperienza per me per me stupenda in alcuni momenti anche anche commovente perché perché davvero insomma è la vita che va avanti no? e sono ricchi di tante belle cose di tanti progetti di di tanta anche innocenza di tanta ingenuità hanno una visione del mondo sempre bella sempre per la maggior parte insomma per quelli che ho conosciuto io però sono così entusiasti così allegri a volte sciocchi ma tanto belli e vanno rivalutati i nostri ragazzi io sento tante persone anziane anche che mamma mia chi baga il leva sei stupido sei scemi guarda come sono stupidi guarda come sono scemi non hanno rispetto non è vero non è vero assolutamente ce ne saranno tanti così ma ce ne sono anche tanti che hanno dei valori ce ne sono tanti che sono educati ce ne sono tanti che sono simpatici ce ne sono tanti che hanno voglia di mettersi in gioco ce ne sono tanti che vogliono imparare che vogliono aiutare le altre persone quindi non è assolutamente vero cioè se il mondo è in mano a questi ragazzi che ho visto io abbiamo ancora una speranza abbiamo ancora una speranza perché sono dei sono delle bellissime persone diventeranno uomini e donne davvero sicuramente molto belli e che sapranno fare delle cose bellissime in questo mondo insomma quindi è stata davvero per me un'esperienza unica un'esperienza molto ricca e ringrazio anche i frati che mi hanno dato la possibilità di fare questa cosa e ringrazio soprattutto i miei colleghi del team Pucina perché senza di loro non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto e alcune volte abbiamo fatto i salti mortali credetemi abbiamo fatto i salti mortali va bene non mi dilungo più ci vediamo al prossimo video vi ringrazio e vi auguro una buona settimana ciao a tutti e grazie